Musica Basket femminile, percorso netto per il Panvit Ancora pallacanestro ma questa volta femminile, percorso netto in promozione per le ragazze del Panvit San Giorgio Contro il Borgo San Giovanni è arrivata l'ennesima, nettissima vittoria 8 vittorie, 476 punti fatti, 346 subiti Percorso netto e girone d'andata perfetto per il Panvit San Giorgio Che arriva al Giro di Voda e il campionato di promozione da capolista e da imbattuta Ultimo ostacolo sulla strada delle ragazze di Nives Regattieri Era il BK Club Borgo San Giovanni, terza forza del campionato Come è capitato anche nell'ultima giornata, il Panvit parte subito forte Imprimendo il proprio ritmo al match Il primo quarto si chiude sul 19 a 6 in favore delle San Giorgine Il Canyon si allarga ancora di più nel secondo parziale Le padrone di casa schiacciano sull'acceleratore Arrivano all'intervallo lungo sul 41 a 15 La gara si può già ritenere in ghiaccio La concentrazione del Panvit cala con l'inizio dell'ultimo periodo di gioco Ma la vittoria non è mai in discussione Alla sirena il tabellone recita 73 a 47 San Giorgio MVP dell'incontro è stata Anna Bonomi Autrice alla fine di 27 punti totali Prossimo incontro per le ragazze di Coach Regattieri Sarà il derby contro il Sustinente In programma sabato sera alle 21 Al Palazzetto dello Sport di San Giorgio Grazie mille noi 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 no i nooi no i noi no